Ciao a tutti, sono Andrea Pioppi e oggi siamo qui per parlare di una sfida molto particolare con i nostri calciatori del Perugia, calcio. Si tratta di una sfida che non riguarda le capacità calcistiche ma la capacità di produrre il nostro Torcolo di San Costanzo, che è un prodotto tipico perugino che ha una tradizione centenaria. Alla fine di questa sfida io decreterò il vincitore e quindi daremo un premio per la peruginità acquisita dopo questa performance. Passiamo subito alla sfida, vi presento subito le due coppie in gara, i due team in gara. Per quanto riguarda il team rosso noi avremo Cristian dell'Orco e Filippo Sgarbi. Per quanto riguarda il team blu sarà composto invece da Cristian Juan e Leandro Cicizona. Buonasera ragazzi, benvenuti. Allora queste che vedete davanti a voi sono gli ingredienti con cui andremo a preparare il nostro dolce, il nostro Torcolo di San Costanzo. Che vinca il migliore, buona sfida. Italiano Parla Carasci Come Vat Tieni, tieni, tieni Tutte il grasso, anche voi Veloce Ok ragazzi, molto bene, siamo addirittura a finale, ora diciamo sistemiamo un attimo il tavolo perché adesso andremo a lavorare e a creare la propria forma a forma in ciambella del tavolo Diciamo che siamo arrivati alla fine, adesso andremo a lievitare i nostri prodotti i nostri torti di circostanza e poi provvederemo all'assaggio Bene Questo è il risultato, adesso andremo ad assaggiare Bene, adesso mi prenderò i miei minuti per prendere la decisione finale Vincitore della sfida è il team Blue Bravo Bravo Bene ragazzi Allora, facciamo la premiazione la premiazione Gadget del forno più occhi Cappellino E... Grazie 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 Grazie